E' questo quindi. Ma l'intento è brusa. Sì, ha detto è brusa, è di puro. Vai a me la stella non è il primo torto. Andrea all'ospedale. Ah, qui c'è il tempo che ti danno in realtà nelle coppie dell'amicizia però. Ma le coppie dell'amicizia allora. Sobicchie legate. E ci sono una coppa dell'amicizia. La mano viene a vestire e ti fa scendere il centro puro. Non è il caso. Siete filmati? Fate ciao alla mamma. Leo, dira tu tutte e due le mangi, per favore. Ti hanno viste le cose. Mi hanno sentita. Vabbè, quanto dobbiamo aspettare? Allora, possiamo andare. Bisogna trovare delle coppie.